Tocca a Tetan. Principessa, brutte notizie. Un camminatore scout ci viene bloccati. Ma possiamo tornare da voi? Cercate di resistere. Sarete al sicuro appena attiveremo l'impulso a Ioni. Ricevuto, Principessa. Ah, bene. Facciamo progressi. Dai. Ok. Se incrocio questi schiavi... C'è un problema. Un attimo. Aspetta, così dovrebbe funzionare. Sì. Andiamo. E lei è in posizione. Bene. Sì, abbiamo finito. Shreev, come siete messi? Ve lei è in posizione. Splendido. Tutti al palazzo. Dale andrà all'interno per attivare l'impulso a Ioni. Prese. Prima delle guerre dei teoni, la regina prese precauzioni per difendere un impulso a Ioni capace di debellare qualsiasi minaccia fuori dal palazzo. Pregerà le nostre armi? Non se siamo nel palazzo. Forza imperiali verso il palazzo. Respingetele più a lungo che potete. Sì, signori. Siamo con voi, attenti. Non ci arrenderemo. Fuoco su quel capitatore. Dobbiamo guadagnare tempo. Fatevi coraggio. Vinceremo. Vado sfondando le linee. Ripiegare. Camminatori, teneteli occupati. Approfittate della fortuna finché dura. Non sprecchiamo colpi. Mi sono addosso. Ritirata. Andiamo. Qui, se è sicuro. Manteria ribella in posizione. Tutti in difesa del palazzo. Se fate essere eroi, ora potete diventarlo. Aspettiamo il palazzo. Bombardiere. Giù. Mi arrivano altri. Ando sfondando le linee. Ripiegare. Del, come procede là dentro? Sono al lavoro. Protocolli di sicurezza sono molto complessi. In realtà. Terremo duro, ma non so per quanto. Tranquilla, principessa. Basterà. Tutti pronti? Non siate avventati. Un altro scudo. Tutti sulle strade. Forza! Non siate avventati.